Un appuntamento molto importante per noi, per noi che abbiamo come missione quella di cercare di raggiungere gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Soprattutto in un periodo come questo la nostra agricoltura ha avuto pesanti conseguenze per la pandemia, per il conflitto in atto. Se vogliamo indirizzarci verso sistemi agricoli, agroalimentari più sostenibili, dobbiamo prendere in considerazione con un cambiamento di rotta la dieta mediterranea. Perché è l'unica dieta, non soltanto che è stata considerata dall'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità, ma è la dieta che coniuga consumo e produzione. Dopo quella di Milano del 2016 e di Palermo del 2019 siamo giunti alla terza conferenza che siamo riusciti a portare qui a Bari, nella nostra città, con grande piacere. Come cambiare la percezione? La percezione va cambiata concentrando l'attenzione della dieta mediterranea non soltanto sugli aspetti salutistici e nutrizionali come è stato fatto nel passato e fino al 2010 quando è stata riconosciuta patrimonio immateriale dell'umanità, ma concentrare l'attenzione proprio su un modello di dieta sostenibile, di dieta sostenibile che fa bene al pianeta, alle risorse naturali, all'economia dei territori e alla cultura dei popoli mediterranei. Ci sono diversi sistemi. Ciò che conta è dare al consumatore, a nostro avviso, informazioni corrette per fare delle scelte consapevoli e non indurre il consumatore in scelte che siano condizionate da dei colori, da dei semafori, rosso, verde e giallo. Innanzitutto perché non ci può dare la pagella al singolo cibo, al singolo prodotto, ma bisogna dare una valutazione sulla dieta complessiva. Da qui dieta mediterranea è il simbolo di questa cultura di pensiero che vuole lasciare al consumatore la libertà di scelta. Grazie a tutti.